sabato e domenica di puro divertimento quello dello scorso weekend sul circuito di misano per il club gt porsche ultima tappa del calendario 2021 e show finale di questo monomarca che ha visto molti piloti toscani mettersi in lice in gara con porsche 911 caiman e boxer stradali o preparate racing il fine settimana sul circuito romagnolo ha dispensato sorrisi e celebrato i vincitori 2021 delle singole classi con sfida sui kart al circuito misanino oltre alle premiazioni finali e la gara extra campionato il porsche club gt festival ha confermato i grandi numeri della stagione appena conclusa organizzato da porsche club umbria sotto leggi da di ac sport ed ha sottolineato il grande successo che ha permesso a piloti squadre tecnici e partner di celebrare una stagione record con oltre 100 piloti coinvolti dando vita alla gara extra campionato che ha rinsaldato l'atmosfera di sano armonismo passione condivisione e l'amicizia createsi in questi due anni di circus del porsche club gt già proiettato verso 2022 e Grazie a tutti. Grazie a tutti.